A Ponticino è ripresa una grande tradizione quella del Paglio della Rana, dopo qualche anno di pausa? Sì, ho dieci anni che questa tradizione purtroppo è andata a finire per causa di una delle due squadre che si è ritirata perché un'altra è diventata a livelli professionistici molto forte e quindi c'è stata questa cosa qui e noi siamo un gruppo nuovo, siamo arrivati da poco anche come associazione e tutto e cerchiamo di riportare questa tradizione al nostro paese perché ci sembra una cosa importante Andiamo a spiegare in che cosa consiste il Paglio della Rana? Certo, il Paglio della Rana in pratica consiste, ci sono due rioni nel quale questi due rioni si contendono il Paglio del paese queste due squadre sono divise da Rione Cavi e Rione Tornaia e Rione Tornaia sta nella parte che vede il Ponticino verso Arezzo e Rione Cavi verso Firenze Le due squadre si affrontano nel ponte che è un ponte romano e si contendono questo Paglio che diciamo è un tiro alla fune nel quale consiste nel devi portare l'altra squadra verso la tua parte e c'è varie manifestazioni, cortei storici, insomma varie scene, scene pupiziatorie insomma è una cosa molto importante e divertente anche a livello folcloristico perché le persone sono contente di far parte del proprio rione, insomma come sappiamo nel senso è una cosa che ci tengono, no? Normale C'è già una data quando si potrà venire a vederlo? Allora non c'è ancora una data precisa però si stima che verrà effettuato a settembre del prossimo anno e storicamente è sempre stato, è sempre svolto in questo mese e diciamo che per quest'anno non siamo ancora riusciti a organizzare tutto al meglio e quindi pensavamo per il prossimo anno che tutto sarà pronto Grazie Grazie Grazie